TASSA DI SCORTA E MARCATA RECUPERIAMOLA Bene gente, diamoci da fare Contratto aggiornato, nuovo obiettivo identificato Compagno finito nel Gulag Chi sopravvive lì torna in prima linea Un team nemico vi sta inseguendo Mi attaccano Mi hanno colpito Tira meglio, per favore Compagno è il via libera per il rischieramento Contratto aggiornato, nuovo obiettivo identificato Guido io Tutte le casse di scorte trovate Ottimo lavoro Tardi a qualcuno Arriba il gas Guido io Guido io Guido io, tutti dentro Siete salvi Avete seminato gli... Arriva un lancio d'equipaggiamento Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti. 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 Mi muovo là giù. Nemici in zona. No, lasciate stare. Che attività nemica? Avete un lancio di equipaggiamento in arrivo. Gassi in arrivo, zona sicura riposizionata. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sto avanzando. Arriba il gas. Ok, siamo dentro. Attenzione a eventuali movimenti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E' attività nemica. E' attività nemica. E' attività nemica. C'è attività nemica. Gassi in arrivo. E' attività nemica. Contatto. E' attività nemica. 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 Avete del gas in arrivo. Dobbiamo raggiungere la zona sicura. E' attività nemica. E' attività nemica. E' attività nemica. Ricorda. E' attività nemica. E' attività nemica. Contatto! Contatto nemico! Ingaggiamo! Contatto! Cazzo! Gassi in movimento! Nuova zona sicura e individuata! Mi dirigo qui. Contatto! Fai! Arriba e chasto! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.